Siamo in collegamento e salutiamo per essere in nostra compagnia con Giuseppe Pascarella, CEO del gruppo Pasca Profit. Giuseppe, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Anche analista finanziario e siamo in collegamento con Giuseppe perché sostanzialmente c'è stato, come sapete, di recente un webinar di Economist con il giornale straniero in cui Christine Lagarde, la quale parla spesso, lo ha fatto molto nel 2020 e continua a farlo anche nel 2021, è intervenuta, ha dato un po' di sue indicazioni per quanto riguarda il momento economico e finanziario e Giuseppe vengo da te perché sostanzialmente a questo webinar, c'eravate anche voi di Pasca Profit. Sì, sì, ho ricevuto io personalmente l'invito da The Economist, è un giornale che seguo da molto tempo e è stato un vero piacere perché è stato molto interessante, molto molto interessante la Lagarde. E allora dai, raccontaci, ti interrompo, scusami, ma solo per ribadire, insomma, raccontaci un po' come è andata questo, noi l'abbiamo definito a tu per tu con Christine Lagarde, poi ovviamente era un collegamento, insomma, web, quindi c'erano anche altri interlocutori, però, insomma, c'è stata anche la possibilità di rivolgere delle domande a Christine Lagarde, su quali temi hai voluto concentrarti e anche perché, e poi, insomma, dici anche un po' che impressione ti ha fatto appunto in questa occasione in cui hai avuto modo di rivolgerti appunto al Presidente della BCE con tanto poi di risposta del ex numero uno del Fondo Monetario Internazionale. Giuseppe? Ma è stato un incontro veramente molto bello perché Lagarde è molto affabile, molto ha risposto a tutte le domande, prima ha fatto, vabbè, insomma, ha risposto poi alle domande dell'editor di Economist, però poi si è concentrata molto su tutte le domande di tantissime altre persone che non era proprio una tu per tu, magari, ma non era così. E no, i temi principali, beh, ovviamente le domande si sono, le domande spese più importanti sono state quelle sulle Recovery Fund, dove lei ha sottolineato il fatto che bisogna andare avanti, bisogna andare avanti anche velocemente perché l'Unione Europea è messa in campo per combattere gli effetti della pandemia, che è stata molto molto pesante per tutta l'economia, lo sappiamo tutti, e ha mandato un invito un po' ai paesi di non rallentare e completare il prima possibile i piani per accelerare proprio l'utilizzo del Recovery Fund. Ha utilizzato poi anche una, dopo tante esitazioni, alla fine poi l'Europa è riuscita a mettere in campo quella che lei ha definito il Fast and Furious, quindi è stato anche un modo un po' simpatico per richiamare. Ma secondo te è stata voluta la citazione del film, insomma, che è diventato poi, come sappiamo, insomma, un cult per molti appassionati, oppure è stato, come dire, un caso, e un caso come hai detto tu, insomma, in qualche modo simpatico? Ma io credo che questi personaggi, la guarda comunque per quanto sono tutti preparati a queste cose, immagino, non credo che sia stato gettata lì, però è azzeccato, perché in fin dei conti è stato un modo molto simpatico, tra virgolette, per lanciare un messaggio a tutti i paesi, datemi una mossa, perché qui c'è il Recovery Fund, bisogna che noi lo spingiamo il più possibile per aiutare i paesi che sono più in difficoltà, tra cui anche la Germania, tra le altre cose. Però sì, è stato, perché tra l'altro si è soffermata sulla Germania e anche sull'Italia, sull'Italia, poi ha fatto un richiamo alle domande su Draghi, su cui lei è ampiamente positiva, anche perché lo conosce molto bene, Draghi è stato tantissimo tempo in Europa, di conseguenza la conosce molto bene, lei ha avuto un atteggiamento estremamente positivo e a me le cose personalmente che mi hanno colpito di più è stato innanzitutto il PEP flessibile, che quindi questo è il programma di acquisti pandemico della BCE, lei ha detto che se serve lo useranno tutto e potranno anche aumentarlo e questo è stato secondo me uno dei punti più importanti. Sì, sulla domanda che mi hanno rubato, la mia era sull'inflazione, perché io ho alzato la mano sull'inflazione, ma lei qualcuno mi ha anticipato, al momento non preoccupa l'inflazione in Europa, la vedono piuttosto lontano, è un problema inflazionistico e rimane l'obiettivo fissato poi da quello della BCE, che è un po' più o meno quello della Fed, cioè non importa se raggiunge anche i famosi due, due e mezzo per cento o tre, i tassi continuano a rimanere bassi e poi ha citato, beh, whatever it takes, ovviamente un sussulto all'affermazione, io ho avuto un sussulto perché è riferimento chiaro al famoso discorso di Mario Draghi, ha aggiunto che l'Europa deve assolutamente assicurarsi di usare gli strumenti giusti e pensare alla stabilità monetaria. Poi lei ha citato il Bitcoin e lì invece è passata, non so se è stata la mia domanda o qualche di un altro, però io a quel punto lì mi sono buttato sul Bitcoin perché comunque è il tema del momento, tutti me lo chiedono, anche clienti e follow me lo chiedono, alla domanda in pratica se il Bitcoin, lei ha risposto in questo modo, che è stato abbastanza lapidare, nel senso che il Bitcoin non è una valuta. Non c'è fredda ulteriore su questa criptovaluta mi pare di ricordare. Lei è stata molto fredda, infatti alla domanda se le banche centrali potranno valutare l'inserimento di Bitcoin tra i propri asset, ha risposto in modo laconico very very unlike, molto molto improbabile e tra l'altro ha chiuso se non impossibile. Poi contemporaneamente Visa, Mastercard insomma hanno annunciato che accetteranno i pagamenti Bitcoin, notizia proprio di oggi, anche la banca più antica americana, Bank of New York Mellon ha detto, ha accetta e ha anche acquistato Bitcoin, PayPal ha detto no grazie, però comunque l'attenzione sta crescendo nonostante le banche centrali continuino a cercare di mantenere in qualche modo una certa distanza nei confronti di questa criptovaluta. Peraltro a proposito di citazioni, Bitcoin giusto, tema attualissimo quindi assolutamente corretto. Mi perdoni, se posso aggiungere, tra l'altro è arrivata anche dal Canada questa mattina proprio per seguire il suo ragionamento, le società private si affacciano ai Bitcoin ma le istituzioni si allontanano, infatti il Canada ieri sera o stamattina, non ricordo, ha detto che non ha intenzione di accettare Bitcoin come valuta digitale, seguendo poi il discorso della Lagarde ieri. Beh quindi sì esatto, si sta ampliando in qualche modo la forbice da una parte, come hai detto tu, gli istituzionali che dicono no e i privati, insomma le aziende che invece dicono perché no sostanzialmente. A proposito di citazioni, Bitcoin, whatever it takes, fast and furious. Credo che fast and furious sia da applicare anche un po' al nostro paese, quindi in qualche modo a Draghi, il quale però insomma dovrebbe agire, sarebbe bello che riesca ad agire fast and furious perché siamo comunque in una situazione di gestione della pandemia in cui insomma serve che qualcuno prenda in mano la situazione. D'altra parte, come spesso accade di fare un paragone, è un po' il Cristiano Ronaldo che ti entra in campo all'89esimo e gli viene chiesto di fare tripletta sotto 3-0. Quindi insomma si va a creare una sorta di pressione che però non dipende da lui. Da qui mi vien da, insomma colgo l'assist di Cristin Lagarde anche per cercare un po' di capire anche dal tuo punto di vista che sensazioni ci sono insomma su questa svolta, su questa rivoluzione che sta avvenendo per quanto riguarda la nostra politica. Il parallelismo calcistico è bellissimo, in effetti non l'avevo visto da questo punto di vista però è perfetto. Certo Cristiano Ronaldo è un grandissimo campione ma chiedergli una tripletta negli ultimi minuti più recupero... Mi sa che non l'abbiamo ancora visto, è un'impresa di questo tipo effettivamente. Diciamo che però ci sta, io credo che Draghi in questo momento sia una buona scelta, è una buona scelta e l'Italia deve apprezzare questa, se Draghi poi confermerà perché comunque deve ancora arrivare ma se dovesse confermare l'Italia secondo me dovrebbe abbracciare questa scelta di Mario Draghi e dargli del tempo perché comunque le sue linee guida, le sue priorità sono, certo è vero, sono le priorità e le linee guida che tanti hanno proposto negli anni passati, ho visto di tutti i colori, non ne abbiamo visto di tutti i colori, però diciamo che Mario Draghi è una persona che sta sempre, dà sempre l'impressione di essere quella persona estremamente colta, in silenzio, che ascolta e poi alla fine quando dice una cosa, la cosa si fa. Il contrario dei politici praticamente. Ma io sì, io per esempio nelle dirette quando parlo con i miei clienti cerco sempre di tenere la politica lontana perché mi concentro sull'economia, però io l'ho sempre detto in tantissimi dirette che noi stiamo vivendo dal mio punto di vista un periodo storico dove c'è un'incompetenza politica a livello globale e quindi ci deve essere in certi momenti, in certi punti, noi stiamo anche per abbandonare Merkel alla fine anno, che è un pezzo importante dello scacchiere europeo, non dimentichiamocelo, e i sostituti non è che piacciono così tanto, e l'anno prossimo non è proprio quel livello lì, però a Macron ci saranno le elezioni, non è detto, però se ci vogliamo soffermare sull'Italia mi piace l'idea delle riforme di Draghi che sono riforme importanti e non dimentichiamoci che volendo, anche non volendo, queste riforme ci servono per accedere poi a quel famoso recovery fund, perché se noi non facciamo queste riforme, non agiamo subito sulle emergenze, noi poi non possiamo presentare un recovery plan interessante, importante e l'Unione Europea potrebbe dire mi dispiace ma questi soldi non vediamo, e noi in questo momento ne abbiamo bisogno. Chiaro, assolutamente, siamo quasi in chiusura Giuseppe, però approfitto anche del fatto che oltre a essere CEO del gruppo Pasca Profits è appunto anche analista finanziario, ha parlato anche di alcune conversazioni che hai avuto e che hai con i tuoi clienti, però così insomma senza andare in profondità perché non abbiamo più tempo, ma insomma i settori che segui più da vicino e che magari potrebbero in qualche modo insomma essere interessanti per investimenti da parte degli amici che ci seguono da casa o magari in qualche settore che ti ha sorpreso in particolare in positivo e negativo, insomma qualcuno degno di nota ovviamente del pacchetto che segui abitualmente. Ma io sono un grandissimo amante da tempo del tecnologico e del farmaceutico, sono quelli che seguo principalmente. Il tecnologico ormai non è più una scoperta, cioè una TAV che nel 2020 è proprio andata a velocità della luce, però secondo me è uno strumento che, cioè è un settore che ha ancora spazio, è ancora spazio perché non credo che, ci sono segnali che la pandemia stia per terminare, segnali lontani, ma comunque i vaccini avanzano e la ripresa economica sembra ormai una cosa che già nel primo semestre dovremmo cominciare a vedere. Quindi il tecnologico però lo vedo sempre come settore principale, soprattutto nel cloud computing e anche, faccio esempio, anche nel settore soprattutto dei big data. Per quanto riguarda il farmaceutico io ritengo che sia sempre un settore molto sottovalutato, ma ci sarà una grande attenzione per quanto riguarda l'oncologia. L'oncologia ci sono tante società, soprattutto negli Stati Uniti, perché io sono esperto soprattutto nel nazionale americano, nel settore oncologico ci sono società che stanno per uscire in fase 3 con dei prodotti che sono veramente straordinari e lo dico anche proprio per la cura del cancro che sono eccezionali. Quindi questi per me sono i due settori. Se vogliamo seguire la politica in sé, cioè quindi la politica di Biden, beh ci sono alcuni megatrend importanti che possono essere anche le energie alternative che io non sottovaluterei assolutamente, perché Biden spingerà molto sulle infrastrutture e sulle energie alternative. Quindi questi sono dei settori che già stanno crescendo, già sono cresciuti, però i valori intrincessi stanno lentamente aumentando. E allora c'è ancora spazio per i tecnologici, occhio al farmaceutico, in particolare alcuni segmenti e ovviamente anche il green con Joe Biden. Giuseppe Pascarella, CEO, chiedo scusa del gruppo e fondatore del gruppo Profit, grazie per essere stato qui con noi, buon lavoro e buon fine settimana. Grazie anche lei, arrivederci, arrivederci a tutti. Salve.